La nuova legge urbanistica regionale arriva a distanza di 40 anni dalla precedente. Fino ad oggi l'urbanistica in Abruzzo era regolata da una legge dell'83, un'era geologica fa, una legge assolutamente inadeguata ai bisogni contemporanei e all'urbanistica moderna. Oggi abbiamo una nuova legge che affronta i temi attuali, si passa dalla espansione edilizia alla riconversione, alla rigenerazione urbana, zero consumo di suolo, attenzione estreno alla difesa dell'ambiente, all'equilibrio e soprattutto anche alla qualità architettonica, elementi importanti inseriti all'interno di questa norma che permetteranno ai professionisti, alle amministrazioni comunali e ai cittadini di avere uno strumento moderno ed efficiente che supera decenni di stallo su questa materia e di ritardo che aveva ormai generato una situazione obsoleta, un'obsolescenza di norme che erano ormai assolutamente inadeguate e anacronistiche. Ringrazio l'assessore Campitelli, la maggioranza del Consiglio regionale e la maggioranza di centrodestra che ha avuto la capacità e la forza di affrontare un tema così importante, così sensibile, così delicato anche per gli interessi materiali che smuove, aver trovato la giusta sintesi, il giusto equilibrio e la convinzione e la solidità anche politica per poter dare alla Regione Abruzzo questo nuovo importante strumento.